L'elaborazione del pensiero pedagogico ha accompagnato l'umanità fin dall'antichità. Pensiamo a quanto può ancora ispirarci il metodo dialogico maieutico messo a punto da Socrate con i suoi discepoli. Nella storia, la pedagogia ha potuto usufruire dei contributi di tante diverse discipline. Pensiamo alla psicologia, alla filosofia, ma anche alla neurobiologia, all'antropologia. E tutto ciò ha contribuito alla creazione di tante diverse teorie pedagogiche che possono esserci ora di ispirazione. Se facciamo riferimento soltanto ai tempi più recenti, tutti quanti avremmo sentito nominare Montessori, Vigoschi, che hanno dato in realtà i loro contributi all'inizio del Novecento. Quindi ormai cominciano ad essere dei soggetti da cui ci distanziamo per quasi un secolo, ma sono ancora fonte di ispirazione molto interessante. E proseguendo nel corso del 1900 possiamo richiamare Dewey, Gagné, Skinner, ma anche Bloom, Brunner, Kolb, Kelly, Bandura, tanti diversi personaggi fino addirittura ai più recenti Biggs, Siemens, Downs, persone che magari avrete sentito nominare seguendo la vostra curiosità di esplorazione nel mondo della pedagogia e che ci potranno aiutare nei nostri prossimi passi. Per orientarci con più facilità nella ricchezza della teoria pedagogica, ci facciamo aiutare da Grino, Collins e Resnick, che già parecchi anni fa hanno proposto un'organizzazione delle teorie pedagogiche in tre prospettive fondamentali, quella associativa, quella cognitiva e quella situativa. Incominciamo dall'esplorare la prima, la prospettiva associativa. La prospettiva associativa è quella di cui fanno parte anche le teorie comportamentiste ed è sostanzialmente quella che parte dall'idea che la conoscenza sia un sistema ben organizzato di connessioni tra unità mentali e comportamenti. Di conseguenza l'apprendimento è visto soprattutto come la modificazione dei comportamenti osservabili attraverso delle reazioni stimolo e risposta. e di conseguenza in questa prospettiva l'utilizzo di incentivi che vadano a rinforzare i comportamenti positivi ed eventualmente i disincentivi che disincentivino i comportamenti inappropriati è visto come la strategia vincente. Le componenti chiave del processo d'apprendimento sulle quali la prospettiva associativa ci propone di agire sono la creazione di reazioni osservabili stimolo-risposta e l'utilizzo di strategie di rinforzo, in particolare dei comportamenti positivi. Allora, questa visione è stata molto criticata nel tempo perché è stata vista come troppo meccanicistica, troppo frammentaria e soprattutto ne è stato criticato il fatto di essere eccessivamente docente centrica. Appare una prospettiva nella quale il ruolo dello studente è declassato al ruolo di un soggetto che deve reagire in modo sostanzialmente automatico a un sistema di stimoli-risposte proposto dal docente. Proprio per queste sue caratteristiche di visione questa prospettiva è stata un po' marginalizzata dal dibattito, però vedremo in seguito che c'è qualche modello pedagogico che attinge a questa matrice ma che ci può in ogni caso dare ancora delle fonti di ispirazioni interessanti. La seconda prospettiva pedagogica che ci proponevano Grino, Collins e Resnick è quella cosiddetta cognitiva. Di questa prospettiva fanno parte famose teorie come quella, per esempio, costruttivista. Cosa ci dice la prospettiva cognitiva? Che la conoscenza è di fatto la disponibilità di strutture, di informazioni, di processi che io posso utilizzare per risolvere problemi, gestire situazioni anche complesse che implicano il fatto di ragionare, di risolvere problemi, di comprendere e utilizzare il linguaggio nel modo più appropriato. L'apprendimento si genera, dunque, attraverso il coinvolgimento dello studente in processi ricorsivi che mettano insieme in modo integrato esperienze, soluzioni di problemi, ricombinazione di informazioni, astrazioni conseguenti. Nella prospettiva cognitiva, dunque, l'apprendimento viene visto sostanzialmente come la modifica delle strutture cognitive interne, risultato di un'attività mentale stimolata dall'esperienza, possibilmente in un contesto sociale. È chiaro da questa riflessione che il ruolo del docente è decisamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto nella prospettiva associativa, perché il docente diventa soggetto che ha lo scopo di attivare il contesto di stimolo esperienziale dentro al quale lo studente è in grado di andare a costruire la modifica del proprio sistema di conoscenze, di abilità e di competenze, per poi agirle nella soluzione di problemi complessi. La terza prospettiva in base alla quale vi proponiamo di provare a mappare il mondo delle prospettive pedagogiche è la cosiddetta prospettiva situativa, cioè quella in base alla quale la conoscenza è vista come un sistema distribuito tra le persone e i loro ambienti. Di questi ambienti fanno parte, naturalmente, gli altri individui visti anche come portatori di conoscenza, ma fanno parte anche gli oggetti fisici, quindi le biblioteche, i libri, le riviste dove risiede fisicamente la conoscenza, e tutto il mondo digitale a cui è possibile accedere, sia in termini di contenuti provenienti dalle fonti più varie, che di contenuti strutturati anche con un obiettivo di apprendimento, come per esempio i Massive Online Open Courses, che sono sicuramente una fonte di contenuto organizzato e generalmente qualificato utilizzabile. In questa prospettiva, la conoscenza è un attributo nello stesso tempo dei singoli individui e dei gruppi nel loro complesso. E l'apprendimento consiste proprio nell'attivazione del processo di partecipazione degli studenti al loro ambiente, quindi una presa di consapevolezza di dove stanno le conoscenze, le abilità, le competenze attivabili, lo sviluppo di strategie per attivarle, attraverso un contesto di interazione che sia produttivo sia con gli individui che con il contesto materiale. Vedete quindi una prospettiva della conoscenza, di che cos'è quindi l'apprendimento, completamente riversa rispetto alle due precedenti. Rifocalizziamo adesso i punti principali. Nella costruzione delle strategie con cui guidare la nostra esperienza di insegnamento e apprendimento, possiamo farci aiutare dalle teorie pedagogiche e, in particolare, da quella loro traduzione operativa nella pratica didattica, che sono i modelli pedagogici. Per partire però nell'esplorazione dei modelli pedagogici, dobbiamo provare ad orientarci nel grande mondo della pedagogia e, a questo scopo, vi proponiamo tre diverse prospettive in base alle quali possiamo organizzare le teorie pedagogiche. La prima è la cosiddetta prospettiva associativa, alla quale fanno capo tutte le teorie comportamentiste, che vede come focus principale della strategia didattica l'attivazione di contesti di stimolo-risposta che vadano a modificare i comportamenti attraverso dei rinforzi positivi. Un'altra prospettiva in base alla quale possiamo organizzare le teorie pedagogiche è la cosiddetta prospettiva cognitiva, dalla quale fanno parte, ad esempio, le teorie costruttiviste. La prospettiva cognitiva ci propone di mettere il focus sulla costruzione di strategie che coinvolgano lo studente ricorsivamente in processi basati sulle esperienze, sulle astrazioni, sulla collaborazione con i pari, per andare a modificare la struttura interna della conoscenza. Ma abbiamo un'altra prospettiva che ci può aiutare ad organizzare i contributi della teoria pedagogica, che è la cosiddetta prospettiva situativa, quella che parte dall'idea che la conoscenza sia un attributo condiviso tra gli individui e i loro ambienti, per cui mette il focus sull'attivazione degli studenti come soggetti capaci di andare ad attingere, ad attivare conoscenza dagli ambienti, dagli oggetti fisici, dal mondo digitale, dagli individui e gruppi del contesto in cui operano. Grazie.